ciao a tutti amici buongiorno oggi sono qui per farvi vedere come far partire un opel grandland x 2019 praticamente ritrovate la problematica che la macchina non legge più la chiave vedete tutto spento chiave in mano proviamo a schiacciare pulsante e non succede niente ovviamente di emergenza per far riconoscere questa benedetta chiave praticamente abbiamo la posizione di lettura che è dentro quel canale lì vedete posizioniamo la parte con lo stemma della opel verso l'interno della chiave in questa maniera in maniera che legga dopodiché andiamo a schiacciare il pulsante start and stop macchina partita raccomando schiacciate il pedale del freno e schiacciate il pulsante start and stop dopodiché chiaramente la chiave la potete posizionare dove volete ok spero che vi sia utile ciao